Ci sono dei momenti nei quali la rata dei clienti è ancora più vicina ai propri mutui, come i clienti più pesanti, troppo pesanti. E Banca Unaloide ha deciso di alleggerirla, tagliando tutti i propri clienti, con fiducia, vecchi e nuovi, rendendo la rata pesante, troppo pesante. Questo ha fatto Banca Mediolanum, un partner leale, un partner affidabile per i propri mutui. Banca Mediolanum, costruite intorno al plano. Guarda il futuro con fiducia. Banca Mediolanum